buongiorno ragazzi bentornati alle nostre video lezioni oggi sarà una video lezione molto lunga destinata a cercare di schematizzare il più possibile il vastissimo e complesso pensiero aristotelico aristotele è un filosofo che per primo cerca di risistemare il sapere precedente nasce a Stagira 384 a.C. fonda la famosa scuola peripatetica nel 335 le sue opere si dividono in due tipologie di opere le esoteriche quelle scritte per i suoi allievi quindi sicuramente delle opere complesse nonché le uniche che sono giunte fino a noi e quelle esoteriche che probabilmente erano scritte sotto forma di dialogo come faceva il suo maestro Platone ed erano destinate al pubblico probabilmente molto più semplici quindi almeno come capacità esplicativa cioè di spiegare semplificando le sue idee le opere esoteriche sono state risistemate successivamente alla sua morte in quattro gruppi c'è l'organon ovvero lo strumento che è un nome che viene dato da Apollo d'oro di Afrodisia che contiene la logica soprattutto quindi quella che per Aristotele era lo strumento per comprendere tutto il resto cioè la logica divisa a sua volta in categorie interpretazioni analitici 1 analitici secondi si sono state analitici primi analitici secondi i topici e le confruttazioni sofistiche poi ci sono le opere di carattere naturalistico e fisico quindi la fisica il cielo il de anima i 14 libri della metafisica sistemati successivamente da Andronico di Rodi e le opere sulla morale come l'etica eudemea o l'etica più famosa nicomachea e le opere a carattere vario perché Aristotele ha veramente affrontato tutto tutta l'esperienza umana cercando di risistemarla cioè la politica e la poetica e come dicevamo è il primo che cerca di riorganizzare tutto il sapere precedente e di darne una sua interpretazione molto particolare cominciamo con la metafisica perché è ovviamente la scienza prima per Aristotele per cui è quella in cui profonde le basi di tutte quelle che poi sono invece le altre scienze che lui affronta cominciamo con l'idea di divisione delle scienze e di nozione di sostanza quindi se la conoscenza delle scienze per Platone era una era la filosofia che comprendeva tutto Aristotele che è un sistematore divide, categorizza e poi ci dà la nozione di sostanza che per lui è fondamentale allora il problema fondamentale è quello della ricerca della verità siamo sempre sulla base della filosofia greca bisogna ricercare la modalità ovviamente per ricercare questa verità bisogna definire le modalità da utilizzare per la ricerca e ogni tipo di scienza ha delle modalità che sono pertinenti al proprio campo di applicazione ci sono le scienze teoretiche studiano l'essere ovvero ciò che è necessario sono la matematica la fisica e la metafisica e poi le pratiche che sono quelle che studiano i comportamenti dell'uomo ovvero ciò che è possibile come è possibile fare che sono l'etica e la politica e poi ci sono le scienze poetiche che studiano ciò che l'uomo crea ovvero le arti e le tecniche ma veniamo al dunque allora la metafisica che cos'è la metafisica? la metafisica fornisce quattro definizioni la metafisica studia le cause prime la metafisica studia l'essere in quanto essere la metafisica studia la sostanza la metafisica studia Dio cioè di cosa si occupa la metafisica? lui dice di quattro cose si può definire sempre comunque metafisica sicuramente lui insiste sulla metafisica moltissimo ed insiste sulla seconda definizione cioè la metafisica studia l'essere in quanto essere perché? perché la metafisica come dicevamo prima ha carattere fondativo cioè la scienza che fonda tutte le altre è la scienza perfetta studia l'essere quindi poi su di essa l'uomo fonda tutte le altre scienze quindi ciò che è comune a tutte le altre scienze mentre le altre due matematica e fisica studiano qualcosa di specifico la matematica studia la quantità in particolare la fisica studia il moto ma che cos'è l'essere? anche l'essere non ha una definizione unica per Aristotele ha diversi significati andiamo a vedere quali allora innanzitutto il più importante l'essere è categorie cosa sono le categorie? sono sostanza, qualità, quantità, relazione, agire, subire, dove, quando, stato e situazione sono gli attributi diciamo sono ciò che l'essere è sono le categorie che possono definire l'essere la qualità, la quantità, la relazione, l'agire, il subire il dove, il quando quindi il tempo, il luogo la prima è la più importante ovviamente la categoria della sostanza è la più importante perché sussiste le altre non sussistono sono in relazione alla sostanza si può agire, si può subire ma non sono sussistenti queste categorie sono sia ontologiche cioè definiscono l'essere ma anche logiche cioè rappresentano come l'essere può essere pensato quindi possono essere le classi di predicato di una frase per cui le stesse categorie le troviamo nell'organon in Aristotele non lo faremo, lo faremo solo velocemente ma la logica si basa su queste categorie per Aristotele perché questa cosa? perché finalmente un po' come per i generi sommi di Platone Aristotele ha bisogno di superare il dualismo parmenideo quindi il problema di Parmenides dualismo fra unità e pluralità cioè come fa l'essere a essere anche molteplice Platone aveva provato a rispondere ma un po' stentato Aristotele è convinto di dare una sostanza di dare una risposta più corretta, completa e afferma che l'essere o è sostanza quindi o è questo o è tutto questo cioè si riferisce comunque alla sostanza l'essere è sostanza o è tutto ciò che si riferisce alla sostanza quindi può essere anche molteplice perché poi tutto ciò che si riferisce alla sostanza ha delle contingenze diverse dal punto di vista logico la sostanza deve fare riferimenti a dei principi altrimenti non è sostanza questi principi non devono essere confutabili perché altrimenti diventa non sostanza cioè non essere cioè questi principi di cui è fatta la sostanza devono non essere attaccabili razionalmente su questo siamo ancora a Parmenide non ci deve essere una possibilità di illogicità quindi il principio di non contraddizione è il primo principio il principio di identità e il principio del terzo escluso questi sono i tre principi che abbiamo visto in classe quindi la sostanza è la categoria prima che definisce l'essere che è ciò che studia la metafisica e quindi che cos'è la sostanza perché poi a un certo punto bisogna pure definirla questa sostanza egli afferma che è sinolo cioè è unione di materia e forma la forma è scusate ho dimenticato un accento è la natura intrinseca di una cosa cioè l'idea platonica diciamo adesso Aristotele non la chiama così ma la forma è la natura di una cosa è intrinseca mentre la materia è ciò di cui è fatta ok quindi un oggetto è forma più materia la forma struttura attivamente la materia passiva poi vedremo di capire cosa intende Aristotele per atto e potenza potenza e atto la forma struttura ciò che è in potenza cioè la materia quindi è atto di ciò che è in potenza atto e potenza appunto lo vedremo anche dopo quindi lo citiamo solamente come definizione di essere l'accidente l'essere può essere anche accidente cioè può essere qualcosa che smette di esistere senza che smetta la sostanza che lo ha che lo ha fatto esistere ed è il vero cioè l'essere è ciò che è vero ok una volta che ha definito queste cose va avanti va avanti Aristotele nella metafisica a cercare di spiegare la dottrina delle cause la dottrina di venire e la dimostrazione dell'esistenza di Dio tutte cose che sono necessarie per dare sostegno alla sua teoria sull'essere Aristotele sostiene che la filosofia nasce dalla meraviglia questa è una cosa bella poi molti l'hanno contestata la conoscenza nasce perché ci meravigliamo di fronte al mondo perché è altro da noi e vogliamo conoscere perché è altro da noi cioè chi l'ha fatto che cos'è e quindi questo ci spinge a ricercare le cause dell'essere di ciò che è queste cause sono quattro una causa formale cioè andiamo a cercare l'essenza di una cosa una causa materiale cioè andiamo a cercare ciò di cui quella cosa è fatta una causa efficiente che è ciò che è da origine cioè che cos'è che ha causato quella cosa e una causa finale cioè verso cosa quella cosa tende cioè è stata creata perché quindi qual è la sua essenza qual è la sua materia da che cosa è stata fatta e perché è stata fatta infine di cosa è stata fatta Aristotele connette quindi la dottrina delle cause ha un altro suo grande antecedente che è Eraclito cioè tutto muta e passa ma perché tutto muta e passa cioè che cosa spinge le cose a mutare e a passare lui afferma quello che avevamo visto prima una delle quattro definizioni di essere cioè potenza e atto l'essere l'esistente è potenza e atto il pantarei è potenza e atto il pantarei eracliteo cioè la potenza che cos'è? è la possibilità di una cosa della materia di prendere una forma è la possibilità mi raccomando cioè una cosa è in potenza ha una possibilità di diventare una cosa l'atto è la realizzazione di tale possibilità quindi perché è il divenire di eraclito perché le cose sono continuamente atto e potenza il divenire inizia dalla materia come potenza e si realizza nell'entelechia cioè quando l'essere si realizza cioè quando diventa atto quando la materia prende la forma quando l'essere si realizza quindi il divenire si attualizza si dice cioè diventa atto e la materia diventa la materia si informa cioè diventa sinolo l'atto però perché se no succede una volta e poi la materia l'essere è finito e si torna all'essere parmenideo unico e inamovibile invece l'atto non è mai definitivo ma l'atto diventa automaticamente potenza per un altro atto cioè l'essere ritorna a essere contemporaneamente appena è diventato atto diventa di nuovo potenza ed è un divenire continuo è un divenire continuo che però non è infinito o meglio è infinito ma ha un inizio ha un inizio nella materia prima perché deve avere un inizio altrimenti si finirebbe nell'infinito che per i greci abbiamo detto che è il falso l'infinito non può esistere il perfetto è il finito quindi c'è una materia prima che è pura potenza e si conclude nell'atto che è il atto puro che è il dio aristotelico cioè il motore immobile qui scusate vado molto di fretta sto mettendo moltissimi concetti al fuoco ma è volutamente un qualcosa di sintetico quindi questa potenza attua ha un inizio ha una causa efficiente come dicevamo prima che è il motore immobile il motore immobile aristotelico che produce continuamente che ha prodotto la partenza del divenire eracliteo e quindi per non correre il rischio però di andare avanti ad un regresso ad infinito bisogna mettere un termine da cui tutto è inizio per l'appunto il motore immobile quindi il motore immobile è causa finale del mondo è immobile perché altrimenti è mosso d'altro cioè quindi deve essere immobile perché altrimenti sarebbe mosso d'altro e ripartiremmo che dovrebbe essere mosso ancora da qualcos'altro e torneremo in questo regressus ad infinitum che è come si può dire come si può definire è il deus ex machina con cui Aristotele e poi tutto il medioevo soprattutto gli aristotelici concluderanno ogni loro ragionamento cioè non si può retrocedere all'infinito quindi ci deve essere un inizio di tutto e una fine di tutto per cui questo fine di tutto non deve essere mossa d'altro deve attirare tutto grazie alla sua perfezione siccome è perfetto tutto tende a lui ricorda un pochettino la reminiscenza platonica quindi l'anima che tende di nuovo al mondo delle idee è eterno altrimenti sarebbe finito il movimento ed è immateriale perché sennò si corromperebbe quindi andrebbe lui stesso a finire ok quindi la dottrina delle cause la dottrina del divinere perché ci sono perché diveniamo ci sono delle cause questa causa è Dio cioè il motore immobile che involontariamente per sua stessa necessità continua a generare questo movimento ed è causa efficiente ma anche causa finale di tutto ciò che continua a esistere e a diventare atto e potenza e poi diventare di nuovo atto e poi di nuovo potenza ok spero di essere stato chiaro la logica aristotelica anche questa la vediamo velocemente ma Aristotele dedica tanto tempo a questo aspetto Aristotele chiama analitica la logica la scienza che studia il ragionamento che è alla base della conoscenza cioè se noi conosciamo dobbiamo conoscere la scienza della conoscenza cioè come ragioniamo anche nella logica ovviamente Aristotele si mette a classificare perché Aristotele è un classificatore è un risistematore quindi si va in base alla maggiore o minore universalità dei concetti cioè i concetti sono categorizzati sono classificati dal più universale il quadrupede fino al più particolare cioè il pastore tedesco con in mezzo il cane questo è un esempio come si possono definire i concetti in due modi per estensione o per comprensione cioè l'estensione è il numero di enti a cui si riferisce un concetto cane si riferisce a un sacco di enti comprensione è l'insieme delle caratteristiche che si riferiscono a un soggetto quindi quante caratteristiche ha un soggetto un soggetto un scusate un termine perché siamo nella logica estensione e comprensione stanno in un rapporto inversamente proporzionale ovviamente quanto più una cosa è universale cioè tanto più ha un'estensione massima tanto cioè l'estensione scusate mi sono perso l'estensione massima sono le categorie le categorie sono l'estensione massima di un concetto la comprensione massima è un individuo singolo perché un individuo ha un insieme di caratteristiche invece una categoria ne ha pochissime di caratteristica solo se stessa ma in compenso si riferisce a un grande numero di oggetti di termini di concetti spero di essere stato chiaro mi sono un attimo perso le proposizioni sono degli atti mentali quindi quando noi mettiamo insieme un concetto attraverso una proposizione stiamo mettendo in connessione dei concetti esistono due tipi universali o particolari cioè quindi in base alla quantità questi concetti possono essere universali o particolari in base alla qualità queste proposizioni possono essere affermative o negative questo è il famoso quadrato aristotelico che abbiamo visto in classe quindi universali e affermative tutti gli uomini sono mortali universali e negativi nessun uomo è mortale particolari affermative alcuni uomini sono mortali particolari negative alcuni uomini non sono mortali poi la logica è andata avanti dopo Aristotele e si è enormemente evoluta però già Aristotele aveva dato un'idea di come poi entrano in contatto fra di loro ci sono le subcontrarie le contrarie e le contraddittorie ok quindi questo è quello che abbiamo appena finito di dire rapporto di contrarietà rapporto di contraddittorietà rapporto di subalternità ma passiamo alla fisica quindi abbandoniamo la metafisica abbandoniamo la logica andiamo a vedere il mondo della fisica cioè le leggi che regolano l'universo in cui viviamo Aristotele parte da un assunto questo è fondamentale perché altrimenti non si capisce Aristotele che la cosa principale che accade nel mondo fisico è che tutte le cose si muovono si muovono sostanzialmente cioè nascono si muovono quantitativamente crescono diminuiscono si muovono qualitativamente si alterano si muovono localmente cioè si spostano ma è sempre moto anche aumentare o diminuire di peso è per Aristotele moto imbianchirsi dei capelli è un moto qualitativamente i primi tre vanno ridotti all'ultimo che è implicito ai tre cioè i primi tre hanno implicito in sé un moto locale ci sono tre tipi di movimento locale che per l'appunto è quello più importante c'è il moto circolare attorno alla terra un movimento circolare intorno alla terra all'etere c'è un movimento rettilineo verso l'altro verso l'alto ho messo come esempio fuoco e aria c'è un movimento rettilineo verso il basso acqua terra quindi tutto ciò che esiste ha un movimento di tre tipi l'etere che a noi non tocca perché è l'oltremondo che ha un movimento circolatorio le stelle nel cielo e sulla terra invece tutto si muove o dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto questi sono i movimenti che trova Aristotele che poi verranno ovviamente contestati dalla fisica moderna da Galileo in poi questa è un'impressione di quello che è il mondo secondo Aristotele molto complesso noi non ci pensiamo nemmeno di affrontarlo in classe quindi di cosa è composto questo mondo di etere l'etere è incorruttibile di etere sono fatti i corpi celesti che sono perfetti incorruttibili ed eterni c'è il cielo delle stelle fisse all'interno di questo mondo e al suo interno tutto ciò che è all'interno di questo cielo delle stelle fisse si muove di modo circolare quindi pensate ai pianeti quello della terra è il mondo sublunare che segue invece gli altri due tipi di movimento quindi sulla terra non c'è il movimento circolare come vi dicevo ma semplicemente un movimento rettilineo dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso e tutto questo queste sono le leggi che regolano a qualsiasi cosa la fisica debba studiare quindi l'universo aristotelico è finito come in tutti gli universi greci è perfetto cioè ha delle regole per cui è assolutamente perfetto andiamo avanti con la fisica aristotelica una volta definito il mondo bisogna definire la cosa più importante l'uomo e l'anima che sono due cose fisiche per Aristotele la ragione l'anima sensomotore e l'anima vegetativa perché? perché l'anima secondo Aristotele è staccata dal corpo però non esiste senza il corpo cioè esiste ma funziona solamente se entra in contatto con un corpo cioè l'anima ritornando atto e potenza perché poi Aristotele dalla metafisica trae tutto quelle che sono le sue i suoi strumenti per come dire interpretare anche la fisica l'anima è atto del corpo il corpo umano viene attualizzato dall'anima e quindi è caratterizzato dall'anima che si divide in tre parti l'anima umana c'è l'anima vegetativa l'anima sensitiva e l'anima intellettiva è una sorta di piramide rovesciata la prima anima ce l'hanno tutti gli esseri viventi dalla foglia all'essere umano la seconda anima ce l'hanno gli animali e l'essere umano la terza anima ce l'ha solo l'essere umano l'anima intellettiva l'anima vegetativa è quella che ti permette di vivere di respirare ok respira una foglia e respira un essere umano l'anima sensitiva è quella che ti fa desiderare di mangiare e di procreare quella dei sensi di provare piacere e ce l'hanno i cani come gli esseri umani l'anima intellettiva ce l'hanno solo gli esseri umani l'anima intellettiva è sua volta suddivisa in attenzione perché qui entriamo in qualcosa che poi nel medioevo diventerà enormemente dibattuto l'intelletto attivo e l'intelletto passivo anche qui c'è potenza e atto l'intelletto passivo è tutto ciò che è quello potenziale ok è tutte le cose che sono materia cioè c'è un intelletto possibile nel mondo l'intelletto attivo è quello che produce le cose cioè l'uomo possiede questo intelletto attivo che va a prendere ciò che è intelletto passivo e lo fa diventare forma materia lo fa diventare eterno incorruttibile questo intelletto attivo è dato cioè è presente nell'uomo grazie all'immortalità dell'anima se morisse l'anima non avremmo questa possibilità di attualizzare l'intelletto passivo cioè l'intelligenza del mondo che è presente nel mondo l'uomo grazie all'immortalità dell'anima prende questo grazie a questo intelletto rende le cose rende possibili le cose cioè l'uomo partecipa grazie all'anima intellettiva di questo intelletto andiamo verso l'ultimo aspetto gli ultimi aspetti aristotelici ovvero le scienze etiche quindi l'etica del giusto mezzo sicuramente rispetto al suo maestro Platone Aristotele ha la stessa idea che l'uomo debba tendere al bene sommo cioè abbiamo una serie di beni secondari intermedi nella gradualità dei beni ma il bene sommo là in alto è la felicità vivere secondo ragione esattamente come per Platone cioè ricercare la conoscenza permette all'uomo la felicità però ci sono due modalità e qui Aristotele abbiamo detto è uno che classifica quindi non si accontenta di la ragione deve attendere al bene ci sono due tipi di virtù che l'uomo può perseguire tramite ragione ci sono le virtù etiche che gli permettono di dominare i sensi grazie alla ragione gli permettono di vivere insieme agli altri attraverso uno strumento che è la mediazione cioè si deve giungere al giusto mezzo la via della temperanza la via della medietas cioè bisogna trovare un giusto mezzo fra due temperamenti diversi ad esempio la temperanza è una virtù che media tra l'intemperanza cioè il fatto che non riusciamo a resistere a nulla e l'insensibilità cioè il fatto che ce ne sbattiamo le di tutto ok? quindi la temperanza è il giusto mezzo la liberalità tra l'avarizia e la prodigalità cioè l'essere troppo generosi la magnanimità che è il giusto mezzo fra la vanità e l'umiltà quindi bisogna non essere troppo vanesi ma neanche troppo umili ok quindi questa è l'etica le virtù etiche quelle che l'uomo vive insieme agli altri cioè deve vivere un'etica del giusto mezzo attenzione che la virtù etica più importante per Aristotele è la giustizia perché è la virtù più importante che ci permette di essere insieme agli altri in modo equo divide a sua volta la giustizia in due è importante la giustizia distributiva quindi ognuno deve prendere per ciò che ha fatto cioè se io ho fatto tot devo ricevere tot e la giustizia commutativa che è invece quella tra gli uomini cioè è una giustizia che deve regolare i contatti fra gli uomini in modo giusto ed equo però la più importante forma di virtù per Aristotele è quella dianoetica le virtù dianoetiche come per Platone i filosofi erano gli unici che potevano giungere alla vera verità e quindi alla somma conoscenza e quindi al sommo bene per Aristotele è molto simile cioè l'appagamento della facoltà razionale la conoscenza rispetto alle virtù etiche è più importante perché giunge alla virtù più importante che è la sapienza e che cos'è la sapienza attenzione perché questo concetto sarà fondamentale soprattutto nell'epoca successiva la sapienza è la contemplazione stessa della conoscenza cioè è contemplare la conoscenza quindi una conoscenza alla seconda una conoscenza al quadrato è mettersi a contemplare la conoscenza e quindi tantissime persone a quello si dedicheranno oggi difficilmente c'è qualcuno ma pochissimi e viene pochissimo apprezzata la conoscenza per la conoscenza fine a se stessa la contemplazione della conoscenza Aristotele ne dà le dà la massima importanza la politica andiamo oramai verso la fine Aristotele anche qui a differenza di Platone non crea un'utopia Aristotele è concreto no? Platone sogna Aristotele è concreto e dice ci sono alcune forme di governo la migliore è la polis greca ma oramai la polis greca è quasi un ricordo quando c'è Aristotele Aristotele è il maestro di Alessandro Magno del giovane Alessandro Magno quindi andiamo verso l'età ellenistica oramai la polis è qualcosa che è di ricordo quindi Aristotele cerca di ingabbiare ciò che di buono c'era prima e dice che ogni forma di governo può andare bene l'importante è la ricerca del bene comune anche in questo ricorda un po' Platone ma Platone ne dava una dimensione sua fortissimamente pericolosa anche molti hanno detto perché il bene comune imposto da una categoria che è quella dei filosofi dei sapienti poi vedremo l'abbiamo visto lo vedrete in storia quest'idea platonica genera i peggiori mostri rivoluzionari della storia Aristotele è più concreto dice va bene possono andare bene tutti l'importante è che si vada verso il bene comune non ci sono tanti tipi di governo ce ne sono tantissimi ma alla fine Aristotele dice si possono ridurre a tre nella sua opera politica c'è la monarchia che se non segue il bene comune finisce a essere tirannide c'è l'aristocrazia che se non segue il bene comune finisce per essere oligarchia e c'è la democrazia che però anche la democrazia se non persegue il bene comune diventa demagogia la demagogia la tirannide è uno un re che diventa che governa con la paura l'oligarchia è un governo di poche persone quindi di aristocratici ma che non ascolta il bene comune ma solo i propri interessi la demagogia è sfruttare il voto del popolo con idee assolutamente irrealizzabili semplicemente per il fatto di venire eletti per ultima la poetica io sono un ex insegnante di italiano quindi per me è fondamentale questa parte di Aristotele anche se spesso non viene insegnata in classe Aristotele affronta anche la poesia cioè la poetica perché si fa poesia Platone odiava i poeti Platone li considerava dei falsari persone che ammantavano un po' come i retori sofisti ammantavano le loro frasi di belle parole che suonano bene che evocano messaggi ma che si tengono l'uomo distante dalla verità che è la razionalità della dialettica invece per Aristotele la poetica è fondamentale è importantissima nella polise per il bene comune cioè non è solo uno strumento di piacere è uno strumento politico-etico anche se lo distingue per la prima volta da etica e morale cioè Platone ne dava un giudizio morale sui poeti un giudizio etico un giudizio razionale lui dice no la poesia non c'entra niente con l'etica e quando parla di poesia fa una prima distinzione che è importantissima la ritroveremo in tanti poeti che hanno riflettuto sul loro far poesia sul loro far letteratura ad esempio in Manzoni cioè la distinzione tra vero e verosimile il poeta non si preoccupa del vero come il filosofo si preoccupa che la sua opera sia verosimile cioè possa somigliare al vero perché l'arte è imitazione della realtà e quindi è importante perché quando noi imitiamo la realtà il teatro soprattutto si concentrerà Aristotele quando il teatro imita la realtà permette a chi partecipa a questa esperienza di vivere una liberazione interiore cioè la catarsi quando noi vediamo messe in scena dice Aristotele degli aspetti dell'umano che sono aberranti che ci fanno paura o che sono belli viviamo una sorta di liberazione interiore perché siamo consci consapevoli che quella cosa è finta ma allo stesso tempo la partecipiamo come se fosse vera quindi con libertà perché non ne siamo coinvolti e ci liberiamo quindi delle nostre paure dei nostri problemi comprendiamo le cose cioè ha uno scopo veramente fortissimo questa imitazione della realtà questo verosimile della poesia inoltre dice Aristotele la poetica non si può non considerarla qualcosa di importante cioè la poesia è una scrittura è una forma un modo di dire le cose che la scrittura razionale non riesce a eguagliare la metafora è in grado di spiegare le cose in maniera diversa ma in una maniera che la spiegazione razionale non riesce a spiegare sei furbo sei una volpe una metafora banalissima sei una volpe ha dentro di sé in quella brevissima metafora una potenzialità di significati che una spiegazione razionale cioè sei una persona intelligente perché hai fatto questo perché derivi da questo cioè dieci pagine di spiegazione razionale non riescirebbero a contenere quello che può contenere una metafora come sei una volpe molto bene abbiamo finito vi lascio al vostro studio spero che Aristotele sia stato compreso benché abbiamo veramente riassunto e lui probabilmente si sta ribellando si sta se c'ha ancora una tomba si sta rotolando dentro perché in pochissimi minuti abbiamo riassunto una vita di pensiero intensissimo comunque buono studio a tutti ci vediamo